Salute ci sono due equipaggi, non aveva rompere, ma si sono tattato, le am respirato libera i quali che facerci i panorama sono politisti locali con i pleji dopo i s-au lato noi politisti, i judeciana e noi, i jandari no, non l'ai vissuto ci a usit ce a usit astazi monumentul vannatori on l'ai vissuto . come ha detto, facendo energete in comandivire o in garnizoana, o in strada chiar si non entelegi ho avuto un sartano ei nu e mai bine, in 10-15 minuti o sa linistez treburile e aglomerat timpul nu ares nimeni ei mai Victor, ti-e mai zici uite ma duci ula daca echipagele de politie o sa taca din zola asta e dosar penal si pe deasupra atac terorist asupra ploistului ce nu te mai iei de pe acest politie 2, ma tinit si 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 in viet si 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 vede è un po' di inglese che è un po' di spettura e un po' di spettura